Vangelo del giorno 5 marzo 2022, sabato dopo le ceneri, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse seguimi ed egli lasciando tutto si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla numerosa di pubblicani ed altra gente che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù rispose Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano. Perché Gesù è venuto sulla nostra terra? Perché Gesù si è incarnato? Perché è venuto a chiamare i peccatori? Perché si convertano? Diciamolo ancora meglio Perché è venuto a chiamare me Perché mi converta e lo segua Diciamolo ancora meglio Perché è venuto a chiamare te Perché ti converta e lo segua Perché se io penso che Gesù è venuto a chiamare i peccatori E penso che solo gli altri sono peccatori E quindi è venuto a chiamare solo gli altri Allora non ho capito niente Quel seguimi detto a Matteo E' lo stesso seguimi che è detto a Francesco Che ha detto a ciascuno di voi E che dice oggi a ciascuno di voi Matteo è un peccatore Ebbè Gesù è venuto a chiamarlo Perché lo segua Ma perché gli cambi la vita Matteo lo fa entrare nella sua casa Ora Matteo Gli ha presentato la casa Così come essere e era Chissà quante cose in disordine in quella casa Bene Anche io l'ho fatto entrare nel mio cuore Ma quando è entrato nel mio cuore Era tutto in ordine? Era tutto a posto? C'erano solo cose belle? O c'erano anche cose brutte? Anche voi fate entrare Gesù nel vostro cuore Ma il vostro cuore è pieno solo di cose belle? O ci sono cose brutte? O ci sono cose che non vanno? Allora partiamo da questo Gesù è venuto a chiamarmi Per seguirlo E per cambiarmi la vita Quanto sono disposto A seguire realmente il Signore E a lasciarmi cambiare la vita? Ciao a tutti